Tra colori sorbetto e pareti di cameli, sfilano Manga Girl con addosso abiti in Technicolor. Chanel si ispira alla cultura pop coreana per la sua collezione Crociera 2016. E' ispirata alla cultura pop coreana la collezione Crociera 2016 presentata a Seoul da Chanel. Tra i colori accesi che illuminano la passerella, sfilano Manga Girl acconciate con trecce chignon imponenti, bambole vestite con abiti dai tagli morbidi. La silhouette è completamente rivisitata e si propongono volumi nuovi, più orientali. Tocchi di verdi, di azzurro, di corallo e di rosa brillante si alternano in passerella. Gli outfit hanno forme comfort, con giacche e gonne a trapezio. La collezione si fregia di fantasie stilizzate, grafiche e geometriche, e di materiali leggeri e pratici, ma sempre elegantissimi, come lino, organza, pizzo e seta. I mini dress lasciano il posto a lunghe casacche e i pantaloni prediligono una gamba molto larga e dritta, ma non mancano proposte più occidentali, come i top di paillettes e gli abiti chemisier. Una dichiarazione d'amore, quella dello stilista verso la cultura e i costumi coreani. L'Agerford riesce a coniugare con naturalezza universi estetici lontani e a miscelare antico e moderno, punta all'avanguardia rimanendo comunque fedele a se stesso. Della Corea moderna sa cogliere le tendenze e la dinamicità, adattando con sapienza la tradizione allo stile Chanel. Al centro dell'attenzione la nuova camelia, uno dei simboli della Maison, che per l'occasione è stata reinterpretata e realizzata a mano. Un'attenzione particolare va dedicata agli accessori, decoltè con punta e tacco quadrato, Mary Jane in vernice e sandali da indossare con calzini di pelle, maxi bracciali e collane in perle e smalto dal sapore orientale. Il beauty look non è da sottovalutare. Colpisce il trucco alla mini, sopracciglia marcate, bottoncino di matita al centro sotto gli occhi, blush rosa, labbra ragoste e capelli raccolte in trecce e due complementi posizionati sulla testa che ricordano le orecchie tonde della compagna di Topolino. Per la sera gli abiti hanno un girovita alto, sono voluminosi e leggeri. I vestiti senza spalline introducono una nuova eleganza notturna. Chiude la passerella una reinvenzione dell'abito tradizionale coreano, lambok, che per l'occasione si trasforma in elegante vestito da sera. Grazie per la visione!